Buongiorno ragazzi, per cominciare Giovanna e Moretti leggeranno i loro temi svolti, dando particolare enfasi agli aggettivi utilizzati. Inizia tu Giovanna. Ok, allora, il mio compagno di banco è simpatico ma un po' vivace. Quest'anno è il primo in cui sono seduta vicina a lui. Fa molti sforzi per concentrarsi e a volte mi fa la stessa domanda due volte. Che noia! Ma che cosa posso fare? A suo modo è un'esperienza divertente. Bene, adesso tu Moretti. Il mio compagno di banco è una compagna. Nessuna speranza. Fine. Eh, Moretti, è creativo, come sempre. Sintetizziamo innanzitutto la definizione. L'aggettivo è la parte variabile del discorso che si aggiunge al nome per indicarne una qualità, o per meglio determinarlo. Esso concorda nel genere e nel numero con il nome a cui si riferisce. Sciogliamo un dubbio. Se l'aggettivo si riferisce a più nomi, singolari o plurali, di genere diverso, l'aggettivo concorda al maschile. Ad esempio, i mandarini e le arance sono maturi. Nel caso del tema di Giovanna, simpatico, vivace e divertente, sono aggettivi che indicano una caratteristica o un modo di essere del nome a cui si riferiscono. Sono pertanto detti qualificativi. Gli aggettivi determinativi precisano invece alcuni aspetti particolari del nome e si suddividono in numerose categorie. Possessivi, come mio, suo, proprio o altrui, specificano a chi appartengono, la persona, l'animale o la cosa espressi dal nome a cui si riferiscono. Dimostrativi, come questo, quel, stesso o medesimo, che specificano una posizione nello spazio o nel tempo, oppure identità tra persone, animali e cose. Indefiniti, come molti, qualche, certe, nessuna, che indicano quantità o qualità indefinite. Numerali, come primo, due, doppio, uno per volta, entrambi, che indicano una quantità esatta. Interrogativi, che introducono una domanda. Che cosa posso fare? Formulata in modo sia diretto sia indiretto, riguardo all'identità, alla qualità o quantità del nome a cui si riferiscono. Esclamativi, che introducono un'esclamazione, come che noia, riguardo all'identità, alla qualità o quantità del nome a cui si riferiscono. Che sono? Leggiamo adesso queste frasi, ragazzi. La ballerina classica è elegante. La sposa era più elegante dello sposo. La farfalla è elegantissima. Queste tre forme dell'aggettivo qualificativo esprimono tre diversi gradi o misure di una qualità posseduta da qualcosa o da qualcuno. Più in generale, i gradi dell'aggettivo qualificativo consentono di rappresentare una qualità in varia misura, o di istituire dei paragoni tra gli elementi che la possiedono. I gradi dell'aggettivo qualificativo sono dunque tre. Positivo, che esprime semplicemente una qualità. Senza specificare la misura in cui essa è posseduta. Sarebbe l'aggettivo nella sua forma base, come nel caso la ballerina classica è elegante. Comparativo, che stabilisce un confronto fra due termini. Il paragone si può esprimere secondo gradazioni diverse, e gli elementi del confronto sono detti primo e secondo termine di paragone, come nel caso di La sposa era più elegante dello sposo. Il grado comparativo dell'aggettivo qualificativo può dunque essere di maggioranza, Moretti è più vivace di Ferrari, di uguaglianza, Giovanna è alta quanto Ferrari, o di minoranza, Moretti è meno studioso di Giovanna. Il terzo grado possibile è il superlativo, che a sua volta può essere relativo, quando il primo termine possiede una qualità in misura maggiore o minore, superlativo o relativo di maggioranza o di minoranza, rispetto all'insieme, di persone, animale o cose, che costituisce il secondo termine, ad esempio la Sicilia è la più estesa tra le regioni d'Italia, oppure assoluto, quando l'aggettivo esprime una qualità posseduta a livello più alto, senza che vengano stabiliti raffronti con altre persone, animali o cose, ad esempio la Sicilia è grandissima. Beh, il termine superlativo, e mi piace, significa straordinario, eccezionale, al massimo grado, come dire io sono fichissimo.